due giorni fa è stato il compleanno di glizia ma solo ieri ha festeggiato con pochi intimi come dice lei ci credete no erano veramente in tantissimi non Grazie a tutti I festeggiamenti non sono stati per pochi intimi, erano veramente in tanti, ma tanti tanti auguri Igrizia e tanta felicità.